Scuole e mezzi pubblici fermi domani a Venezia per lo sciopero generale indetto da CGL Will con corteo che da Piazzale Roma arriverà a Campo Santo Stefano. Si sta sgretolando il mondo dei lavoratori iscritti al sindacato. Le aziende storiche veneziane sono sempre più in crisi nel petrolchimico, nel distretto del vetro e al loro posto sta nascendo un altro tessuto produttivo che non guarda le organizzazioni sindacali. È fatto di turismo, di croceristica, di piccole imprese che lavorano nel calzaturiero, un distretto che si sta riprendendo. Ma per le aziende sindacalizzate peggiora di giorno in giorno la crisi. Le paure di CGL Will sono legate anche alla prevista riorganizzazione degli enti locali come la provincia e il comune di Venezia in vista della città metropolitana, le APT cancellate in tutto il Veneto e che dovrebbero entrare sotto l'ala della regione. Poi c'è l'Atere e le Usle in costante ridimensionamento sotto i colpi del taglio del governo. Renzi vuole tagliare altri 150 milioni di euro anche se la regione Veneto si rifiuta di firmare l'accordo. Si tratta dei serbatoi dove i sindacati pescano più iscritti. Decine le assemblee territoriali tenute in questi giorni, dove CGL Will hanno messo sotto accusa la corruzione della filiera partita dal Mose e passata attraverso i project financing per gli ospedali e le strade. La protesta fermerà bus e vaporetti a CTV dalle 9.30 alle 16.30 e i presidi non garantiscono ai genitori le lezioni scolastiche.